da forlì arriva paolo bandini play classe 2004 intanto un benvenuto a faenza paolo ecco da forlì a faenza possiamo dire alla conquista della serie b esatto sia un'opportunità per provare a fare un salto personale un miglioramento personale quest'anno cosa ti aspetti da questa stagione sicuramente la stagione intensa bella divertente che richiederà molte molto impegno però potrà essere una bella stagione potrà potranno arrivare molte soddisfazioni ecco tu arrivi da una stagione dove hai giocato in c silver con bertinoro ma anche in a2 con qualche presenza anche con l'unieuro quanto è stato importante ma sicuramente è stato molto importante essere allenarmi e a volte anche giochi chiari con l'unieuro secondo me è una parte molto importante della crescita adesso faenza come mai l'idea di di venire qui come ho detto prima per provare a fare il salto un miglioramento a livello personale e comunque da allenarmi con una serie a due a provare a giocare un po in b e poi troverai anche una persona diciamo che era il tuo idolo fino a qualche anno fa esatto andava a vederla al palazzetto da piccolo quando giocava lì a forlì dico ecco adesso immagino che ti farà anche da chiozza quindi saranno emozioni ecco come tu ben sai nostri tifosi sono caldissimi ti chiedo una frase cosa vuoi dire ai nostri tifosi un saluto a tutti e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura insieme vi aspetto calorosi e in molti non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura insieme a le